Una voce che per 25 anni si ripete e non cresce nel tono, ma rimane sempre con lo stesso tono, della stessa età, è una singolarità. Io le chiamerei tutte singolarità. Sono eventi molto particolari e molto singolari, che però è molto difficile dare spiegazioni scientifiche. Non si può definire diversamente che singolarità. La voce di cui parla la direttrice del Castello di Montebello e che forse alcuni di voi sono riusciti a percepire dalle registrazioni che abbiamo appena sentito, sarebbe quella di Azzurrina, una bimba albina scomparsa il giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno del 1375. Il fascino della storia di Azzurrina incuriosisce da anni i molti visitatori del Castello, che vengono qui per ascoltare e formarsi una propria opinione sulla vicenda. La leggenda ci tramanda che, poiché l'albinismo veniva un tempo collegato a eventi di natura diabolica, la madre decise di tingere i capelli alla bimba, ma questi non riuscivano a trattenere il pigmento e restavano con dei riflessi azzurri, come i suoi occhi. Da qui il nome Azzurrina. Il padre faceva sorvegliare la piccola da due guardie proprio per proteggerla. Ma si narra che un giorno, mentre fuori infuriava il temporale, la bimba inseguì la sua palla fatta di stracci fino alla ghiacciaia sotterranea, sparendo, a detta delle guardie, nel nulla. Nel 1990, quando il castello fu aperto al pubblico, l'anno prima, diciamo nel 1989, furono fatte le prime registrazioni. Da quell'anno in poi, ogni cinque anni, qui vengono dei tecnici, vengono a fare ricerche e studi su questo luogo. È chiaro che sono studi sul paranormale, sui suoni, sui tecnici, vengono fatte foto, vengono fatte immagini filmati e tutto materiale che facciamo sentire e vedere, diciamo, durante la visita guidata al castello. Oltre alle registrazioni sonore, sono riuscite a catturare qualche immagine? Sì, ci sono anche immagini, c'è addirittura un filmato fatto nel 2015. Si vedono sicuramente un movimento all'interno del castello, è come nelle immagini, si vedono delle ombre. È chiaro, non dobbiamo immaginarci delle immagini perfettamente chiare. Sono sempre situazioni un po' interpretabili. La prima parte del castello è antichissima, ben 2300 anni, perché furono i Romani a costruire la prima torre di avvistamento e non furono solo a costruire la torre, ma anche a dare il nome al luogo. Questo luogo si chiama Mons Belli, dal latino Monte della Guerra, perché i Romani, quando arrivarono qui, trovarono una popolazione celtica molto agguerrita e per conquistarlo dovettero combattere a lungo. Dopo i Romani abbiamo un lungo periodo di silenzio. Il primo momento in cui riappare il castello di Montebello è nel 1182, quando abbiamo un atto notarile in cui un notaio di Berucchio cede il castello di Montebello per 110 lire lucchesi a un Malatesta. E qui, in quella data, entrano i Malatesta. I Malatesta dominano questo luogo per ben tre secoli e fu proprio quello il momento in cui ingrandirono il castello, lo migliorarono, costruirono la prima cerchia muraria, la seconda cerchia muraria e resero questo castello inespugnabile. In Malatesta anche loro ebbero però un periodo difficile. Arriviamo fino al 1464, quando Sigismondo Pandolfo Malatesta viene sconfitto, Pian della Marotta, dal Papa e in quella data qui entrano i conti guidi di bagno. Dal 1464 in poi i conti guidi di bagno sono i legittimi proprietari di questa rocca. Ancora oggi è una proprietà privata e non è un luogo pubblico.